Ora voglio aprire questi 11 pacchettini, visto che non lo facciamo da un po' di tempo sul canale, quindi mando e le ciance, apriamo questi 11 pacchettini. Sì ragazzi, spero di trovare qualcosa di buono, visto che io sono sempre stato sfigato in queste cose, intanto vi faccio vedere anche il club intanto che ci sono, perché comunque negli ultimi miei spacchettamenti che ho fatto, nei pacchetti di poco conto e di poco valore, ho trovato Davis, tanta roba, ho dovuto un attimino un po' arrangiarmi con il team, perché comunque ho trovato Davis, ho trovato Modric 87 ragazzi, Cioè ho trovato Modric, ho trovato Molina e ho trovato Oblak, che ho dovuto incastrare tutti quanti per avere comunque un buon team. Abbiamo un'intesa di 27 su 33, mi piace, non posso migliorarla? Certamente, sicuramente lo farò, lo faremo anche in live. E piccolo spoiler, nel prossimo episodio proveremo un giocatore, una carta fantastica. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Allora, apriamo questi 11 pacchettini magici, epici, spaziali. Speriamo di trovare qualcuno. Partiamo subito dai pacchettini di merda, per favore. Proviamo, guardiamo. Per risultare, America, Cicci. È una donna americana, guardiamo. Di Bernardo, attenzione, Cicci. Prossimo pacchettino. Skippiamolo. Spagna. Pedro Porro. Savanier. Ok, skippalo, skippalo, skippalo. Trastatemela. Skick e Kuiu e... Tedesco, ATT, Werner. No. Speravo in un Werner, ti dico la verità. Pop! La magnifica Pop! Oh, aspetta un attimo, Pop! 88! 88! Oggi è la giornata donne. Però ho almeno 88. Questa qua è fenomenale, ragazzi. Il Ray 10. 88 di velocità. 86 di dribbling. Cioè... What? Nelle Borussia Dortmund. Brent. Il problema, sapete qual è? È che non sono scambiabili. Quindi non valgono niente. Abbiamo trovato un Tiago. Del Liverpool. Gioca in Premier. Oh, tedesco? Tedesco? COC? Gozze. Ma gioca ancora, gozze. Ma gioca ancora. Ma basta. Ultimo pacchetto. Si fa roteare il joystick. TD. Cos'era? Spagnolo. Del Tottenham. Ancora lui, ma basta. Pedro Porro. È rotto il cazzo. Eccoci. Primo game. Human contro la Santa Rosa FC. Allora, le 288 che abbiamo trovato le ho lasciate in panchina perché le userò come super sub. Le farò entrare in un secondo momento, visto che dopo la mia intesa proprio scende di parecchio. Sinceramente noi non vogliamo. Va bene, dai, facciamo questo game. Speriamo di vincere. Va che voglio fare la VL settimana prossima. Così, già così. Va bene. Bello. Bello Upa. Bello Upa. Bello Upa. Bababia. E fa anche la finta, se. Eh, vabbè. Però sei stronzo. Dai, Davis. Bababia. Eh, vabbè. Ma te sbagli le cose basilari. Gol. Eh, gol. Un gol veramente brutto. Un gol veramente brutto di Madison. Dai, ragazzi. Non scherziamo, eh. Va bene. Vabbè. Sempre lui. Madison. Sempre Madison, ragazzi. Cioè, un tiro, un gol. Un tiro, un gol. Bene. Va bene, campione. Vai, Upa. Pensaci tu, Upa. Porco, due. Ma cos'è? Ma cos'è? 3-0 così nel chill. Pop! Ma che cos'è? Vabbè, dai. Dio Cristo. Sì! Pum, pum, pum. Let's go. Sanè. L'eroe. L'eroe. Camaviga. Camaviga. E lo segna così. Edoardo. Camaviga. Camavinga, scusatemi, ragazzi. Camavinga. Se lo fa, abbiamo perso. Se lo fa, abbiamo perso. Lo sapevo. Era scontatissimo. Era scontatissimo. Niente, ragazzi. Non... Niente, oggi non ci si becca. Oggi non ci si becca. Oggi non ci si becca. Oggi con... Non ci si becca, ragazzi. È inutile. 5-2. Vabbè. La prossima, dai. Sapevo. Aspetta un attimo che adesso la passa. Fa il gol della merda questa. Bello, a che... Bravo, a che... Ma vattene a fanculo, ah. Bellissimo, ragazzi. Ma che ha fatto, a che... Bellissimo. La Ray 10. La Ray 10. Bello. Ah. Tiago. Devo cambiare Tiago, forse. Eh, non mi piace tanto Tag. Vai, Ray 10. Vai, Ray 10. Allungatela un pochettino. Noi, ti prego. Ti prego. Pop. La Pop. Primo gol della Pop. La coppia. Sì. Sanè. Sanè. Nell'angolino, Sanè. L'eroe. 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 Ricordiamolo. Camavinga. Ci prova. Oh, Pop. Ti prego. La Ray 10. La Ray... La Ray 10. Oh, che cazzo spingi, fratelline. Madonna, ragazzi. Ma che ansia. Io non ho parole. No. Io voglio lei. Non mi interessa. Io voglio lei. Dov'è la Martens? Madonna, Martens. Davvero. Non farmi pentire. È la Martens. È la Martens. 5 a 3. E la chiude così, almeno spero. Il trio. Delle Amazzoni. Guarda che provo a tirare una tega. Completamente a caso. Io volevo tirare in porta una tega dalla Madonna. Che ha fatto Gron Modric. Oh. Ok. Bel game. Bella partita. GG. GG per lui, ragazzi. GG per lui. La Pop. La Pop. Ti chiamo a casa, la Pop. Ti chiamo a casa. Alexandra. Dai, ragazzi. Ma dai. Vi eravate dietro al culo. Ma fate qualcosa. Un colpo di testa. No. Non lo farei mai più, Simone. Non lo farei mai più questa cosa. Vabbè. Dai, ragazzi. Dai. Dai. Con frattesi. Ma siamo seri. Con frattesi. Cioè, tutti i gol della merda cercano. Ma fate schifo. Va bene una volta o due, ragazzi. Ma questi qua fanno gol di testa. Come boh. Vabbè. Non è fallo. E non è fallo. E non è fallo. Va bene. Capisco. Capisco. Ma fa la finta. Perché non fa la finta quando deve farla? Perché quando deve farla non la fa. E quando non la fa, lo fa. Ma fanno gli stessi gol. Vabbè, dai. Una presa per il culo. Provedel. Oh, provedel. Provedel. Da provvedel. Questo qua sta giocando con provvedel. Neanche a porta vuota fa gol. Scherzo. Ovviamente ne facciamo un'altra perché non posso finire questo video così. Vabbè, ragazzi. Infermabile, Alland. Cioè, è un muro. È una specie di camion che tira dritto e... Non lo sfondi neanche con... Non so, 10 barriere. Ogni tiro un gol di Alland! Ogni tiro un gol. Ma come cazzo fai a fermarlo? No, no, no. Che cazzo fai? La Sialan da solo, Dio Cristo. È infermabile. Cioè... Boh, ma che... Boh... Sì, ma in divisione 8 con questa squadra... Divisione 8 con questa squadra... Cioè... Quanti cazzo di soldi hai shoppato? 3 miliardi di euro hai shoppato. Per essere in divisione 8. O sei una pippa... Madornale! Che solo con me... Ah! Poco 2! O solo con me vinci! Cioè... O se no hai speso totalmente tanti soldi! Divisione 8! Dio Cristo! La Pop! La Pop! Sì! La Pop chiama a casa! La Pop chiama a casa! Questo qua comunque non è bravo, eh. Questo qua comunque non è... Chissà quanto forte. La possiamo fare. Però devo trovare... L'inquadratura. Questa qua non mi piace. È rigore! Con l'indice alzato. Con l'indice alzato. Oh! Dov'anni allungare le mani, eh. Raga... Provo il colpaccio. Provo il colpaccio. Ah! Il colpaccio! A curo! Raiten! Bellissimo! Bellissimo! Il nostro guru! La nostra guru! Vabbè, dai, ragazzi. All'Alland. Ma che gli devi dire? Fa un gol a partì... Cioè, fa un tiro. Un gol. Basta che lo lasci da solo. Non basta niente. Basta che ciacci... Così... Icchè! E fa gol. Dai, su! Io sbaglio, eh. Però, Dio! Guarda, guarda, guarda. Sdimmerd. Tiago! Tiago! Sì! Indicensati verso il pubblico! Tiago! Aspetta, metti tutto equilibrato, va? Quitta! Quitta! Sì, la tocco con la tua squadra milioni di crediti. Madonna! Oh, che ansia! Che ansietta! Vabbè, vabbè. Pareggio, c'è 5-5. Va benissimo, va benissimo. Mi son divertito a utilizzarle, davvero. È la prima volta che comunque faccio un video del genere. Nel prossimo video proveremo anche un altro giocatore con una bella carta nuova di pacca che abbiamo sbloccato ieri e che la voglio provare in un video. E niente, spero che vi sia piaciuto. Vi ricordo di lasciare un bel pollice in su, un bel commento. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella che è sempre il punto importante. Non fate le brutte e cattive... Non fate le cattive persone, ragazzi, eh. Non fate le cattive persone. Un bel pollice in su. E niente, io vi ringrazio. Alla prossima, gente! Alla prossima, gente!